Bentornati ragazzi, siamo di nuovo con questa follia, la cosa che è inquietante è che spiegavo Federico oggi, era che lo schermo, vedi Federico, lo schermo è ripreso perfettamente in tutti i monitor che vediamo, ma non solo, cioè quello che noi facciamo qua, c'è anche l'iconcina bassa rossa di Fraps, anche qua, niente, è una cosa in più, non è una cosa in più, è una cosa che non c'entra un cazzo, però volevo dirla insomma, va bene, era una curiosità, ah beh, che facciamo, carichiamo il salvataggio, ma sì, carichiamo il salvataggio, carichi questo salvataggio, come si fa? Vediamo un po', chiedo scusa perché nel video precedente quello di come caricare i video dell'Xbox su YouTube, scaricarli, eccetera, c'era un fischio della cuffia mostruoso mi ha dato i nervi, immagino anche quanti di voi l'hanno visto, che so, un po' pochini, vabbè, stavamo qui, ora io proverò, tutti i sovreri che non si può comparsi, io ora proverò a aprire tutte le porte che incontro, perché credo che magari possa cambiare qualche cosa, tipo ogni tanto, ogni volta che ricominciamo, magari qualche porta si possa aprire, sì, sono cazzi miei quello che faccio, narratore di merda, la 4 e 20, me le provo tutte, proprio perché te dici che è inutile, io le provo, provo anche quello, anche il quadro, rompere il cazzo, questa è chiusa, non aveva la minima importanza, oh siamo qui, proviamo a cambiare qualche cosa rispetto all'altra volta, perché poi ho visto che addirittura ci sono stati dei gameplay in cui in quel punto invece di due c'erano sei porti, questa è chiusa, questa è chiusa, questa non lo so, questa è chiusa, questa è chiusa, questa è chiusa. Vedete che mi dice qua. Voglio fare quello che mi pare, voglio starci quanto mi pare, e tu non mi vuoi dire niente, hai capito brutto stronzo? Tutto, tutto il tempo, ok? Parlerò con il gioco come se avesse la voce del narratore, io sto qui e ora io decido di uscire, ok? E chiudo anche la porta, no anzi la lascio aperta. C'è sicuro? Vabbè va, vengo su. Qui c'è sempre l'ascensore pazzo? C'è quello che sta sempre lì? C'è stato lì? Steppi in to his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned an extra secret pinnacle. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelyhood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2, 8, 4, 5, it would be another story entirely. Voglio che tu mi passi per deficiente. This is what he was going to do instead. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless. Ok, te lo metto, visto che l'altra volta, brutto bastardo, boshedard. Adesso l'abbiamo fatto, ci siamo stati. Ci deve essere qualche cosa, ma riesco a capire che cosa. Il muro nel buio totale, pure l'altra volta stavano. Qui si gira intorno e poi si va di qua. Loading, cazzo di loading. Vediamo un po'. Questo per vedere se succede... Ah, c'erano un film. Succedono sempre le stesse cose. Quindi anche risposta a chi me l'ha chiesto oggi. E voglio vedere se... Riandando un'altra volta nella stanza quella dei computer... Mi dà lo stesso finale. Sì, lo so, l'altra volta andavo a lei e sono morto. Vado di qua stavolta e voglio vedere se mi dà lo stesso finale. Sì. I monitor sono accesi, e va bene, ok. Questa è la seconda volta. I lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place, where freedom meant nothing. I am seeking... Alternative ending. Va a cercar finale alternativa, vediamo un po' se c'è. Bene, è stato un'altra volta. Si, 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 adesso ci stavamo già. Ma posso notare risultati? Posso saltare? No, non si non proviate. Non potrebbe accettarli. Sua自然e vita in qualcun altro'è... Non c'è... Era non terpennale. Non c'è, non c'è? Aveva anche possibile? Aveva veramente spendo l'anima vita assolutamente verso il mondo? la volta non era l'acqua 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 e come la realtà ha iniziato Stanley non è mai l'acqua 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 fa un cazzo questa cosa ilibi l'acqua l'acqua è l'acqua 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 mi ricorda l'impero colpisce ancora quando combattere gli Skywalker con con Darth Vener si lo so si chiama Darth Vader io lo chiamo Darth Vener perchè da ragazzino sempre chiamato Darth Vener lo continuo a chiamare Darth Vener qual'è il problema? oh niente te porta qua meno che non andiamo no qua dietro oh c'è un pulsantone tre allora facciamo uno due tre e andiamo a fare quattro ho messo quattro pulsanti lì a casa non succede niente è un cinque però qui ci sarà anche un sei vediamo un po' se ci potrà mai essere un sei dove potrebbe essere un sei? uno, due, tre sta là quattro, cinque forse sei sta dentro un po' può essere vediamo un po' se quello laggiù sei non mi ricordo and when at last he found the source of the room's power he knew it was his duty his obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for oh Stanley you didn't just activate the controls did you after they kept you enslaved all these years you go and you try to take control of the machine for yourself is that what you wanted? control? si oh Stanley I applaud your effort I really do but you need to understand there's only so much that machine can do you were supposed to let it go turn the controls off and leave if you want to throw my story off track you're going to have to do much better than that I'm afraid you don't have nearly the power you think you do for example and I believe you'll find this pertinent Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system in the event that this machine is activated without proper DNA identification nuclear detonators are set to explode eliminate almeno sparisce long until detonation then let's say two minutes ah now this is making things a little more fun isn't it Stanley it's your time to shine you are the star it's your story now shape it to your heart's desires oh this is much better than what I had in mind what a shame we have so little time left to enjoy it mere moments until the bomb goes off but what precious moments what a shame of them is more time to talk about you about me where we're going what all this means I barely know where to start what's that? you'd like to know where your co-workers are a moment of solace before you're obliterated si voglio sapere dove stanno all right I'm in a good mood you're gonna die anyway cosa gli è successo? I erase them io cancello radio vento il macchinario ti ho liberato of course that was merely in this instance of the story sometimes when I tell it I simply let you sit there in your office forever pushing buttons endlessly and then dying alone other times I let the office sink into the ground swallowing everyone inside or I let it burn to a crisp I have to say this though this version of events has been rather amusing watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you it's quite rich I almost hate to see it go but I'm sure whatever I come up with on the next go around will be even better my goodness only 34 seconds left but I'm enjoying this so much you know what to hell with it I'm going to put some extra time on the clock pezzo di merda ahahahahahahah these are precious additional seconds time doesn't grow on the trees oh dear me what's the matter standing is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now or did you just assume when you saw that timer no no sto là davanti ma non lo vremo running from button to button screen to screen clicking on every little thing in this room these numbered buttons no these colored ones or maybe this big red button or this door everything anything something here will save me why would you think that stand me that this video game can be beaten one solved do you have any idea what your purpose in this place is no non so la minima idea Stanley you're in for quite a disappointment but here's a spoiler for you that timer isn't a catalyst to keep the action moving along it's just seconds ticking away to your death you're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless to see you made humble this is not a challenge it's a tragedy you wanted to control this world that's fine but I'm going to destroy it first so you can't vediamo take a look at the clock standing that's 30 seconds you have left to strike 30 seconds until a big boom and then nothing no ending just you being blown to pieces will you cling desperately to your frail life or will you let it go peacefully another choice make it cut or don't it's all the same to me all a part of the joke and believe me I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up quindi ah vediamo un po' pezzo di merda mi ha rimesso qui ma sei una merda un altro finale come ben si io quando Stanley came to a set of two open doors he entered the door on his left no voglio andare a destra this was not the correct way to the meeting room and Stanley knew it perfectly well perhaps he wanted to stop by the employee lounge first just to admire it come on come on oh yes truly a room worth admiring it had really been worth the detour after all just to spend a few moments here in this immaculate beautifully constructed room Stanley Stanley simply stood here drinking it but eager to get back to business faccio quello che mi pare Stanley took the first open door on his left Stanley was so bad at following directions it's incredible he wasn't five years ago chiusa già stato look Stanley I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here I'm not your enemy really I'm not I realize that investing but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do Stanley left from the platform non te l'aspettavi stronzo good job Stanley everyone thinks you are very powerful sto prendendo per il culo ma io prendo per il culo te vediamo un po' voglio vedere quanto tiro del culo ah no no wait Stanley thought to himself am I sure that the orders stopped coming in how is that possible they never stopped surely I was mistaken when Stanley came to a set of two open doors he entered the door this was not the correct way to the meeting room and Stanley knew it perfectly well perhaps he wanted to stop by the employee lounge first just to admire it wow yes this room but eager to get back to business Stanley took the first open door on his left and so he detoured through the maintenance section walked straight ahead to the opposite door and got back on track and got back on track and got back on track and going to go eh siamo già stati anche qui sì vediamo che cosa cosa possiamo fare adesso he wanted to wander about and get even further off track so now in order to get back aveva bisogno di andare a... da qui è... un grande pericolo con le porte sì sì oh no, no, è alla right, è il mio errore no, 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 no. una desiderio, una di queste due, una delle due, una di queste due, una di queste due, la questa, questa questa shut up, son of a b**ch ok ok Ok, sì. Ho questo. La storia è sicuramente, sicuramente, questa persona. Ok. Ne, non, 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 non. E questo non è vero. Tu non dovresti essere qui in più. È tutto un spoiler. Bello, Stanley, chiunca i occhi. Ok, ok, ok. Chiunca i occhi e ralacca. Non ti bottleneci. E' un po' di roba, adesso. La storia è completamente inutilizzata. Cioè, invece di perdere il mio tempo per cercare di salvare questo nonsenso, noi stiamo solo iniziando il gioco dal principio. E questa volta, crediamo che non stiamo andando così lungo, eh? Ok, da parte! Questo è di merda! Tutti i suoi co-workersi erano fuori. Che cosa significa? Stanley deciso di andare in la sala di incontro. Potremmo che aveva semplice una memoria. Ops. Quando Stanley... Prendi... 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 Cosa? Non, non, ho iniziato, ho iniziato, ho iniziato, ho iniziato, ho iniziato, ho iniziato, completamente fresco. Tutto dovrebbe essere... Oh, ha qualcosa di cambiato? Stanley, hai cambiato qualcosa quando siamo in quella sala con tutti i monitori? Hai cambiato la storia di un po' o... Prendi... Prendi... Cosa chiedo di te? Sono il che scrive la storia! Era qui un minuto fa, ho sicuro che è qui un po' oltre. Ok, allora... È un'avventura. Vieni Stanley, vado a trovare la storia! Qui non mi piaceva che andrà... Bisogna andare di giochi di una volta. Bisognava sempre andare a destra. Finché è possibile. Destra, destra... Sì, vado a dire, questo è il peggio avventura che ho mai avuto. Ho provato a te che c'era sicuramente una storia qui prima. Qui, quindi? Doviamo ristrarci il gioco di nuovo? Beh, mi trovo incredibile che non avremo progressi per iniziare di nuovo e di nuovo, ma deve essere meglio di questo. Ok, lasciamo una scelta, perché non? Ma fai schifo! Fai schifo al cazzo! Scusate, io salvo. Fai schifo al cazzo! Ok, sì, è più peggio. Sì, potrei ricordare questo. È possibile che la storia sia tornata, where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Pezzo di merda. Sei un pezzo di merda, il gioco. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Ok, let's head back the other way and retrace our steps. Sei un lurido bastardo. Guarda, guarda. Sembra di stare dentro una casa come si dice, posseduta, infestata. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Hmm. Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work and it really paid off, so good job. Oh no, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Pezzo di merda, schifoso. Te ce fa credere, poi ti fa ricominciare. Vedi? Maledetto. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Ti dice, se in cefali dico, segui la linea. Ah, ma mi fa entrare dentro l'ufficio. Vedi? Vedi, possiamo parlare. Vedete? Come magari. non è ancora una storia. Simple by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute, just stick with me. Now, if we both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one subjective experience of that existence, of that existence. Devo fare meno canne, però. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Oh, 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 oh. Hang on. I've got a bit weird back there? Well, I'd like to apologize. I'm not sure where I was going, or all that. Stai sparando cazzate alla fine. What we need right now is a bit of music to lighten the mood. Puret she says. Second of me, do you have a pass on? Stai sparando. 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 Buongiorno! Prendi la musica, tornate e guardate a quel ferno! Stanley, questo ferno sarà molto importante dopo la storia. Facciate che lo studiate e lo ricordate. Non vuoi che non vuoi perdere. No, 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 line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Oh no, 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 line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore to hell with it, restart. Fantastico, vabbè ragazzi, per oggi basta, abbiamo visto abbastanza, avete capito di che natura hai questo gioco cerebrotico, cerebrale, fra virgolette cerebrotico, molto intrippante, se avete qualcosa da dire a favore o contro questo gioco, ovviamente i commenti qui sotto sono abilitati, andate e moltiplicatevi, ciao! Grazie a tutti!